Storia della razza. La razza prende il nome dalla provincia svedese di Jampland, che confina con la Norvegia. Proviene da un grande spitz da caccia trovato in una zona forestale al confine tra Scandinavia e Russia. Il Jampland è stato creato come razza separata nel 1946, ed è un ramo del norvegese Elkund. È stato il risultato di un'adeguata selezione di conduttori di cani svedesi nel tentativo di creare un cane più grande. In precedenza si presumeva che la razza portasse il sangue della laica della Siberia occidentale. La ragione di ciò era la somiglianza esteriore dei due cani e gli stretti legami delle tribù ugrofinniche orientali e occidentali che esistevano in passato. Tuttavia, se confrontiamo i tipi moderni di queste razze, sono molto lontani l'uno dall'altro, il che è riconosciuto dagli allevatori di cani svedesi, lamentandosi degli approcci sbagliati all'allevamento. Jampland è usato per la caccia all'alce, ai vecchi tempi era usato per cacciare l'orso bruno e la lince. Si mostra bene nella caccia alla martora, all'ermellino e al gallo forcello. A volte usato come cane da pastore, da guardia e da slitta, oltre che nel servizio militare. Un cane che è stato socializzato e adeguatamente addestrato all'obbedienza può essere tenuto come compagno. La razza è diffusa principalmente in Svezia, dove il suo numero è piuttosto elevato, circa 1,7 mila individui sono registrati ogni anno dal Kennel Club svedese. Nel gennaio 1954, il Jamtung fu riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale e assegnato al gruppo degli Spitz, e delle razze primitive, un sottogruppo dei cani da caccia del nord. Il Jamtung do Elkoun svedese è un'antica razza di cane da servizio, allevata incrociando diversi Spitz. Cacciatori versatili, sono abituati a cacciare un'ampia varietà di selvaggina, dalle lepri agli alci. Si adattano perfettamente ai compiti di sicurezza e di sentinella. Negli ultimi anni, hanno guadagnato popolarità come compagni. Leali, calmi, comprensivi. Aspetto. Un cane masiccio simile a uno Spitz di altezza superiore alla media, un po' allungato, ben definito, forte, il corpo non dovrebbe sembrare lungo o troppo pesante. Si muove liberamente, con buona oscillazione, al trotto gli arti si avvicinano alla linea centrale. La testa è ben definita, allungata, abbastanza larga tra le orecchie. Il cranio è leggermente arrotondato. Il passaggio dalla fronte al muso non è brusco, sebbene ben pronunciato. Il muso è leggermente più corto del cranio, non appuntito, si assottiglia uniformemente verso il naso largo. Labbra serrate, chiusura a forbice, zigomi moderati. Gli occhi sono leggermente ovali, di colore marrone, lo sguardo è vigile, ma calmo. Orecchi attaccati alti, forti, molto mobili, con punte appuntite e un'altezza, che supera la larghezza alla base. Il collo è lungo, massiccio, molto flessibile, ben definito. Il corpo è leggermente più lungo dell'altezza algarrese. Il dorso è diritto, con una leggera pendenza dalgarrese alla groppa. Il torace è profondo con costole ben cerchiate. Il ventre è leggermente rialzato. La coda è attaccata alta, di media lunghezza e spessore, arrotolata in un anello sciolto e premuta contro il dorso o maclac. Arti forti con derretti ben angolati, piedi forti, leggermente ovali, dita serrate. Il pelo di sopra è dritto e denso, non molto stretto, il sottopelo è cremoso, corto e soffice. Capelli più corti sulla testa e sulla parte anteriore delle gambe, più lunghi su collo, petto, coda, parte posteriore delle gambe e cosce. Il colore è grigio chiaro e grigio scuro con tipiche macchie grigio chiaro o crema ai lati del muso, sugli zigomi, sulla gola, sul petto, sull'addome, sugli arti e sotto la coda. L'altezza ideale algarrese per i maschi è di 61 cm, per le femmine di 56 cm, sono consentite deviazioni entro 4 cm in entrambe le direzioni. Il peso medio è di 30 al 31 kg. Tratti distintivi del carattere. Nonostante sia calmo e affettuoso con la sua famiglia, il laica svedese può dominare altri cani e avere un forte istinto da preda. Un cane davvero versatile, può passare dalla caccia al focolare familiare con grande disinvoltura. Prende tutto con calma, ed è difficile da incazzare, il che lo rende un partner affidabile in campo o a casa. Va d'accordo con i bambini, mostrando gentilezza e pazienza. Può mostrare comportamenti apertamente aggressivi nei confronti degli estranei, è anche ostile nei confronti di altri cani, che vengono percepiti come rivali, o come una minaccia per il territorio, o per i propri cari. Possiede qualità di guardia, e di cane da guardia, per la cui attuazione non è richiesta alcuna formazione aggiuntiva. Essendo un'appassionata cacciatrice, è ancora in grado di vivere nella stessa casa con altri animali, compresi i gatti, se è cresciuta con loro fin dall'infanzia. Allevare i antunda a causa della loro testardaggine è abbastanza difficile, mentre è importante rimanere calmi e pazienti. Manutenzione e cura. Jantun prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Gli iantunda non sono molto adatti a vivere in un appartamento di città. Non richiedono cure particolari, hanno bisogno di una dieta sana ed equilibrata e di un egolare esercizio all'aria aperta per mantenere il cane in buona forma e alleviare lo stress e l'energia accumulati. La cura principale è ridotta a procedure generali. Taglio delle unghie, spazzolatura di denti e orecchie, lavaggio e pettinatura del pelo, soprattutto durante il periodo di muta. L'addestramento precoce del cucciolo a tutte queste azioni allevierà il cane dalla paura in un'età più matura. Salute. Il jantund è generalmente considerato un cane robusto e sano. Le malattie più comuni in questa razza includono epilessia, displasia dell'anca, displasia del gomito, artrite, glaucoma, atrofia della retina, cataratta, ipotiroidismo e infezioni dell'orecchio. Nei paesi con climi caldi, sono possibili manifestazioni di eczema. Tra le malattie del sistema endocrino è possibile il diabete mellito, che è ereditario. Colpisce tipicamente i cani di età compresa tra 4 e 14 anni, con un picco di incidenza tra i 7 e i 9 anni. L'aspettativa di vita media è di 12 al 13 anni. Le cucciolate sono abbastanza grandi, in media nascono 6 ottobre cuccioli. Prezzo e come acquistare correttamente. Il costo medio di un cucciolo di husky svedese è di 500 dollari 800. Linea di fondo. Il jantund, chiamato anche il koum svedese, è una razza di cane di tipo spitz che si trova nel nord Europa. È la provincia con lo stesso nome nel centro della Svezia.